buonasera bentornati bentornati a ballarò allora cominciamo per ordine parleremo di tante cose questa prima puntata però prima partiamo dalle richieste allora non è più tempo di favole è il titolo del nostro spot di quest'estate siccome ci sono arrivate tante tante richieste ai nostri ascoltatori questa sera ve lo facciamo subito rivedere poi vi spieghiamo perché spot matriciana per due pronta chi impiatta ci penso io due crostini mozzarelli alice e quattro supplia al 23 oh ma robinuto malato matriciane pronte due cicorie ripassate manca un pizzico di sale quattro fritture miste due filetti al pepe un'insalata dai 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 sono pronte ste cacio e pepe pronte due rughetta e pacchino grazie prego azzarro caffè conto al 18 e un attimo e non è più tempo di favole pare che quello che ha funzionato soprattutto è il non è più tempo di favole allora vi faccio vedere i giovani attori che ci hanno fatto questo bel regalo michele maganza che era peter pan francesca cardinale trilli federica orrù biancaneve turi moricca zorro gianluca vicari pinocchio poi ci sono anche alessandro borghi alice bellagamba e soprattutto grazie anche a paolo genovese un grande regista e però ci segue dal dal primo anno allora a tutti voi un augurio in bocca al lupo per una grande carriera perché perché oggi parleremo pure di futuro di futuro non solo di chi di chi lavora ma di tutti noi perché breve a breve nel breve termine grazie a tutti